Ciao Maurizio! Allora il commento sulla salita? Dai, il nostro numero uno! Sai, non farei, fai la persona seria! Bella salita assolata! Non è sufficiente, dai da buon avvocato! Chiedi allora che sa di più! Chiedi a qualcun altro! Sa, Pippo, prima salita dell'anno, le condizioni fisiche come sono? Stendiamo un velo, Pietro! Ma no, no, sono... No, quattro fili in più si sentono! Lo pubblica, scusate! Bisogna andare piano, giornata spettacolare, considerando che sul partito d'arte c'era meno uno nella nebbia, qua saranno dieci gradi, siamo un sole! Bellissimo! Tonino? Mi hanno, sono venuto su del mio passo, così si dice, no? Quando la dosia è tutta, quello è il proprio passo! Ed ecco voi il nostro capitano, il nuovo capitano, Giovanni Federico, vincitore di due giri d'Italia, partecipazione a due campionati del mondo, vincitore della Val d'Aosta... Eh dai, mi è beccato... Un piccolo commento, Giovanni... Eh, volevo, volevo... L'ho stuzzicato un po', ma quello va, eh... Ho provato ad andare lì, ma non abboccava... Vabbè, ma sono le tue prime uscite queste... Non abbocca! Non abbocca! Non hai provato a affiancarlo, come hai detto... Ma, 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 ma... Poi non sono tanto in confidenza... Eh, eh... Poi mi ha detto che avvocato, e dopo questa volta... Eh... Cosa ne pensi, allora? Di cosa? Pensi di aggregarti a questo zar, cavallino rosso... Sì, eh? Tieni su! Togliti! Cosa dici, Giovanni? Dai che poi chiudiamo... Cosa devo dirti? Beh... io te l'ho detto un paio di di gran fondo va bene chiudi la trasmissione